Capitolo dodicesimo Rompicapo Quell'anno Lori, qualunque ne fosse la ragione, si era dedicato seriamente agli studi, ottenendo di conseguenza la laurea a pieni voti. A detta degli amici recitò l'orazione in latino con la grazia di un Filippo e l'eloquenza di un Demostene. Ad applaudirlo c'erano i Marsh al completo, oltre al nonno, e tutti si congratularono con lui con gran calore, orgogliosi e soddisfatti di tanto successo. «Devo fermarmi qui per la cena ufficiale, è una noia che non si può evitare, ma sarò a casa domattina presto. Mi verrete incontro come al solito, ragazze?» chiese Lori. Aiutando le sorelle Marsh a salire in carrozza, dopo che la cerimonia fu terminata. Diceva ragazze, ma alludeva solo a Joe, che era rimasta l'unica a conservare quella vecchia abitudine e che, non avendo il coraggio di rifiutare nulla all'amico nel giorno della sua brillante vittoria, acconsentì con entusiasmo. «Verrò, Teddy! Piova o nevichi, verrò! E ti precederò verso casa, suonando con lo scaccia pensieri? Ecco, l'eroe ritorna!» Il suo tono era scherzoso, ma lui la ringraziò con uno sguardo così intenso da metterla a disagio. «Povera me!» pensò. «Certamente vuol dirmi qualcosa! E allora che farò?» Quella notte dormì un sonno agitato, ma la mattina seguente il solito tranquillo trantran quotidiano delle faccende da sbrigare calmò un po' i suoi timori. Perché Lori avrebbe dovuto farle una dichiarazione quando già altre volte lei gli aveva fatto capire quale sarebbe stata la sua risposta? Quando scoccò l'ora di andarli incontro, uscì sperando di tutto cuore di non essere costretta a dargli un dispiacere. Per infrancarsi ancora di più fece visita a Meg e giocò un po' con i gemelli. Ma non appena vide in lontananza le tante figura dell'amico, provò l'irresistibile tentazione di girare i tacchi e darse la gambe. «E lo scaccia pensieri!» gridò Lori quando fu a portata di voce. «L'ho dimenticato!» rispose Joe riprendendo coraggio. Lori forse aveva più voglia di scherzare che di fare dichiarazioni d'amore. Di solito, quando Joe gli andava incontro, lo prendeva a braccetto, ma questa volta non lo fece e lui non protestò. Cattivo segno! Cominciò invece a chiacchierare di cose futili, finché non lasciarono la strada per inoltrarsi in un sentiero che tagliava attraverso un boschetto. A quel punto rallentò il passo e lasciò languire la conversazione inserendovi lunghe pause imbarazzanti. Per rompere quel silenzio che le pesava addosso come una cappa di piombo, Joe disse «Immagino che ora ti concederai una lunga, meritata vacanza!» Già! Il tono della risposta era così risoluto che Joe alzò gli occhi, vide con quale intensità lui la stava guardando, e capì che il momento tanto temuto era arrivato. Tese le mani in avanti e supplicò «No, Teddy, per favore, non dire niente!» «Parlerò invece e tu devi ascoltarmi! È inutile, Joe! Prima chiariamo tutto e meglio sarà per tutti e due!» «E allora avanti, ti ascolto!» disse lei rassegnata. Lori era giovane e inesperto, ma sinceramente innamorato, e deciso ad andare fino in fondo, costasse quel che costasse. Cominciò con gran foga, ma a tratti la voce gli tremava. «Io ti amo, da quando ci siamo conosciuti, Joe, e non avrebbe potuto essere altrimenti, perché sei sempre stata buona con me. Ho cercato di fartelo capire, ma tu non me lo hai mai permesso. Adesso devi ascoltare e rispondermi, perché così non si può andare avanti». «Avrei preferito evitare questa spiegazione, speravo che avresti capito», cominciò Joe, e si interruppe. Tutto era più difficile di quanto aveva immaginato. «Lo immaginavo, ma voi ragazze vi comportate sempre in modo così strano che non si riesce mai a indovinare che cosa volete veramente. Dite di no, ma intendete sì, e ci fate perdere il lume della ragione per puro divertimento», replicò Lori, trincerandosi dietro un luogo comune. «Io non mi sono mai comportata così, non ho mai desiderato che tu mi volessi bene come un innamorato, e ho fatto il possibile per fartelo capire». «Beh, infatti l'avevo sospettato, è nel tuo carattere, ma non è servito a niente. Il mio amore per te è diventato ancora più forte. Ho lavorato duro per farti piacere, o rinunciato a giocare al bigliardo, e a un'altra infinità di cose che disapprovavi. Ho aspettato e aspettato, senza mai dare segni di impazienza, perché speravo di conquistarti, anche se non lo meritavo». La voce del giovane si spense in un singhiozzo, che proprio non poteva evitare. Finse di schiarirsi la gola e con il bastoncino che teneva in mano, si mise a decapitare nervosamente i fiori del prato. «Sono io che non ti merito, Teddy», disse Joe a bassa voce. «Sei straordinario, sono orgogliosa di te e ti voglio bene, ma non nel modo che desideri tu. Non sono innamorata, capisci? Ho provato, ma non ci riesco, e non si possono forzare i sentimenti, e io non voglio ingannarti, sarebbe brutto e disonesto». «E' proprio così, Joe?» Lori si era fermato di scatto, le prese le mani ripetendo la domanda con uno sguardo che per lungo tempo lei non avrebbe dimenticato. «E' proprio così», rispose in un soffio. Erano a limitare del boschetto, ora, davanti alla staccionata di recinzione. Lori di solito la scavalcava ad un balzo, ma questa volta la guardò sconsolato, e si appoggiò ai paletti velati di muschio con un'aria così cupa, che Joe ebbe quasi paura. «Oh, Teddy, se tu sapessi quanto mi dispiace! Sono così terribilmente desolata! Mi ucciderei se servisse a qualcosa, credimi! Farei qualunque cosa per evitarti di soffrire, ma sai bene che non ci si può imporre di amare una persona, anche se questa lo merita come nessun'altra!» Joe parlava in tono sconsolato e pieno d'affanno, mentre gli accarezzava teneramente una spalla. Non era passato molto tempo da quando era stato lui a consolare lei con quel gesto, e la ragazza se lo ricordava bene. «A volte succede», mormorò lui a testa china. «In questo caso non è vero amore, Teddy, e allora non vale neanche la pena di provare», fu l'inappellabile risposta. Ci fu una lunga pausa di silenzio, rotta solo dal canto armonioso di un merlo in riva al fiume e dal fruscio del vento tra l'erba. Joe si sedette su un gradino della scaletta davanti alla porta di casa e disse in tono pacato «Lori, devo confidarti una cosa». Lui ebbe un sussulto come se fosse stato colpito da una pallottola, alzò la testa e gridò furente «No, non dirmela, ora non potrei sopportarlo». «Sopportare cosa?» disse Joe colpita da tanta violenza. «Che sei innamorata di quel vecchio, vecchio?» chiese Joe sbigottita e per un istante pensò che Lori alludesse a suo nonno. «Quel dannato professore al quale non è fatto che scrivere da quando sei tornata. Guarda, Joe, se mi dici che lo ami, io giuro che faccio una pazzia». Lori stringeva i pugni con un lampo d'ira negli occhi e la bocca ridotta a una fessura sottile. Joe trattenne la risata che le gorgogliava in gola e cercò di riportare il colloquio su un piano razionale. «Non bestemmiare, Teddy. Il professore non è vecchio, è una persona buona e gentile, è il migliore amico che abbia dopo di te. Per favore, calmati. Sto cercando di fare altrettanto, ma se insulti il mio professore finirò per arrabbiarmi anch'io. È sul serio. Comunque sappi che non lo amo, né lui né nessun altro. Forse non lo ami adesso, ma finirà come dico io. E allora che ne sarà di me? Ti innamorerai di un'altra ragazza e dimenticherai tutta questa storia. Io non posso amare un'altra, Joe. Io non ti dimenticherò mai, mai. Capisci?» E Lori picchiò il piede per terra per dare enfasi alle sue ultime parole. «Che cosa posso fare?» sospirò Joe. Era scoraggiata. La faccenda si faceva più complicata di quanto lei avesse previsto. Poi riprese con voce pacata. «Non ho ancora finito di dirti quello che volevo, Teddy. Ora siediti e ascoltami. Io intendo comportarmi nel modo migliore e farti felice». Se sperava di calmare le acque, si sbagliava di grosso, tradita dalla sua inesperienza in fatto d'amore. Lori, infatti, accolse quelle parole come uno spiraglio di speranza, si gettò ai suoi piedi sull'erba e la fissò dal basso con un atteggiamento adorante. Come poteva parlare con serenità e distacco a quel ragazzo che la guardava con gli occhi che brillavano di amore e di desiderio, che aspettava una conferma ai suoi sogni. Gli sfiorò con dolcezza i capelli, costringendolo a girare la testa per non affrontare il suo sguardo mentre riprendeva il discorso. «Anche la mamma è del parere che noi due non siamo fatti l'una per l'altro. Abbiamo caratteri troppo decisi, volontà troppo forti. Saremmo infelici se facessimo la sciocchezza di…» Joe si fermò e fu Lori a pronunciare per lei la parola che le era rimasta in gola. «Di sposarci? Dilla, dilla pure la parola!» «Oh no, non è per niente vero che saremmo infelici. Se tu mi amassi, Joe, io diventerei un santo. Potresti fare di me quello che vuoi.» «No, non posso. Ho già tentato e non ci sono riuscita. Non voglio neppure provarci adesso che la posta in gioco è così alta. È inutile illuderci, Teddy. Non riusciremo mai a essere felici, tu e io. Perciò restiamo buoni amici. Continuiamo a frequentarci e a volerci bene. Ma stiamo attenti a non prendere decisioni affrettate.» «E io dico invece che dovremmo almeno tentare!» svottò rabbiosamente Lori. «Ti prego, Lori, sii ragionevole e cerca di usare il buonsenso!» Disse Joe che era al limite della resistenza. «Non voglio essere ragionevole. Non voglio usare il buonsenso, come lo chiami tu. Non serve a niente. Diventi solo più dura e cocciuta. Tu non hai cuore.» «Magari non l'avessi.» La voce di Joe tremava un poco e Lori credette che fosse un segno di cedimento. Così riprese a insistere, con tutta la persuasione di cui era capace, cercando di convincerla con un tono che non era mai stato così pericolosamente convincente. «Rifletti, Joe. Non dare una delusione a tutti. Il nonno sarebbe felice, la tua famiglia, anche, e io non saprei che fare senza di te. Dimmi di sì e saremo felici. Avanti, che aspetti a dirlo? Te ne supplico.» In seguito Joe si sarebbe chiesta dove avesse trovato la forza di resistere, di non cedere a quel ragazzo a cui voleva un bene dell'anima ma che non amava. Alla fine, comunque, ci riuscì. E senza indugiare oltre, perché ogni indugio, oltre che inutile, sarebbe stato anche crudele. «Non posso dirti di sì, Teddy. Sarebbe un'ipocrisia, capisci? Perciò non te lo dirò mai. Col tempo ti accorgerai che ho ragione e mi ringrazierai», disse solennemente. «Che mi impicchi no se lo farò?» E Lori balzò in piedi, bruciando di indignazione a quell'idea balorda. «Sì, lo farai», insistette Joe. «Dimenticherai. Un giorno incontrerai una ragazza adorabile che ti amerà e sarà un'ottima padrona della tua bella casa. Io non potrei esserlo. Sono troppo alla buona, e goffa ed eccentrica e vecchia anche. Prima o poi ti vergogneresti di me e finiremmo per litigare, proprio come facciamo adesso. Inoltre, a te piace frequentare la buona società. A me no. Non ti andrebbe a genio che passassi parte del mio tempo a scrivere e io non posso farne a meno. Saremmo infelici. Rimpiangeremmo di esserci sposati. La nostra vita sarebbe orribile». «Hai finito», chiese Lori, che non ne poteva più, di quelle previsioni apocalittiche. «Ho solo una cosa da aggiungere. Credo che non mi sposerò mai. Sono felice così. Amo troppo la mia libertà per accettare la prospettiva di rinunciarci». «Ah, davvero?» esplose Lori. «Io la penso diversamente. Ti dico che verrà il giorno in cui amerai qualcuno, e lo amerai pazzamente, e vivrai e morirai per lui. Ne sono sicuro. Lo so. Sei fatta così. E io dovrò stare a guardare». E l'innamorato, respinto, gettò a terra il cappello con un gesto che sarebbe apparso comico se l'espressione del suo viso non fosse stata così tragica. «È vero, Teddy. Io vivrò e morirò per il mio uomo, se mai ne incontrerò uno capace di farsi amare da me mio malgrado. E tu starai a guardare, sicuro», replicò Joe, che era ormai all'esasperazione. «Ho fatto del mio meglio, Teddy, ma tu non vuoi saperne di ragionare. È egoistico da parte tua a pretendere qualcosa che non posso darti. Ti vorrò sempre bene, come a un vero amico, ma non ti sposerò mai. E prima te ne convinci, meglio sarà per entrambi». Quelle parole ebbero l'effetto del fuoco su una miccia. Lori girò sui tacchi, gli occhi che lanciavano fiamme, e poi disse, con voce vibrante di rabbia e disperazione. «Un giorno te ne pentirai, Joe!» «Aspetta, Teddy, dove vai?» esclamò lei spaventata da quella reazione. «Al diavolo!» fu la consolante risposta. Per un minuto il cuore di Joe si fermò. Lori si stava dirigendo verso il fiume. «Ma un giovane non rinuncia alla vita se non per pazzia, o per un terribile rimorso, o per un dolore incurabile». E Lori non era certo una di quelle creature deboli che si abbattono al primo insuccesso. Soprattutto non pensava affatto di affogarsi. Ebbe uno scatto istintivo di rabbia e scaraventò in fondo alla barca il suo povero cappello e poi la giacca. Quindi saltò dentro, afferrò i remi e remò con quanta forza avesse in corpo, come non aveva mai fatto prima. Joe lo guardò allontanarsi, riprese fiato e a sua volta si avviò verso casa. «Gli passerà», si disse, «e da questa prova uscirà più maturo e tornerà indietro con un'aria così pentita e afflitta che non avrò neanche il coraggio di guardarlo in faccia». E proseguì verso casa, sentendosi come se avesse ucciso qualcosa di puro e l'avesse seppellito sotto le foglie. «Ora devo correre a raccontare tutto al signor Lorenz perché sia comprensivo nei confronti di quel povero ragazzo. Avrei voluto che si innamorasse di Beth e credevo che un giorno, chissà, ma forse mi sono sbagliata. Come si complica il mondo quando c'è l'amore di mezzo!» Il signor Lorenz ascoltò con grande comprensione lo sfogo di Joe. Non riusciva a capire come una ragazza potesse rifiutare il suo lori, ma non ebbe neanche una parola di rimprovero. Capiva che i sentimenti non si poteva comandare. Scosse il capo con tristezza e pensò che, per il momento, ciò che doveva fare era impedire a Teddy di combinare qualche sciocchezza. Infatti, le ultime parole che il nipote aveva rivolto a Joe lo preoccupavano più di quanto non volesse ammettere. Lori tornò a casa stanco e sudato, ma apparentemente calmo. Suo nonno finse di non sapere niente e nascose la delusione che lo tormentava per un oro due. Tuttavia, quando si sedettero insieme al tramonto, nell'ora che più amavano, fu dura per il vecchio trovare qualcosa da dire, così come per il giovane non fu facile ascoltare gli elogi per i suoi successi agli esami dell'ultimo anno, che adesso gli sembravano solo fatica sprecata. Lori assecondò il nonno finché potè, poi si mise al piano e cominciò a suonare. Le finestre erano aperte e stava suonando la patetica, con tanto sentimento che Joe, mentre passeggiava in giardino con Beth, per la prima volta in vita sua capì il linguaggio di quella musica più profondamente della sorella. Un pezzo bellissimo, figliuolo, ma piuttosto triste, commentò il signor Lorenz, così intenerito e commosso che avrebbe voluto esprimere i suoi sentimenti pur non sapendo come fare. Perché non cerchi nel tuo repertorio qualcosa di più allegro. Lori si lanciò in una marcia vivacissima e proseguì per diversi minuti finché, in un momento di pausa, non sentì la voce della signora Marsh che chiamava. «Joe, cara, vieni, ho bisogno di te!» Proprio le parole che avrebbe voluto pronunciare lui, ma con un significato ben diverso. Si distrasse, perse il segno, concluse con un accordo dissonante e rimase immobile, muto, al buio. «Non ce la faccio più!» sussurrò il vecchio signore. Si alzò, brancolò fino al pianoforte, poggiò le mani sulle spalle del nipote con un gesto di infinita tenerezza e disse «So tutto, ragazzo mio!» Per un istante Lori rimase in silenzio, poi chiese con voce aspra «Chi te l'ha detto?» «Lei! Allora è proprio finita!» Con un gesto impaziente delle spalle si liberò dalle mani del nonno. Gli era riconoscente per la comprensione dimostrata, ma il suo orgoglio maschile non tollerava la compassione di un altro uomo. «Forse non del tutto», replicò il signor Lawrence con insolita dolcezza. «Da tempo al tempo, non si può ancora stabilire se è finita davvero. Magari ti piacerebbe stare un po' lontano da casa?» «Non intendo certo fuggire davanti a una ragazza. Gio non può impedirmi di vederci e starò qui fin quando ne avrò voglia», disse Lori con aria di sfida. «E invece non lo farai, se sei il gentiluomo che credo. Anche a me dispiace che sia andata così, ma la ragazza non ne ha colpa. È la sola cosa che ti resta da fare e andartene per un po' di tempo. Hai qualche preferenza per la destinazione? Qualunque posto, non importa che ne sarà di me». E Lori si alzò con una risata ironica che strinse il cuore a suo nonno. «Per amor del cielo, figliuolo, comportati da uomo e non fare sciocchezze. Perché non vai all'estero come avevi progettato e cerchi di dimenticare? Non ne ho più voglia». «Eppure lo desideravi tanto. Avevi posto questo viaggio come condizione per andare all'università?» «Sì, ma non intendevo farlo da solo». Lori si mise a camminare su e giù per la stanza, con un'espressione così tesa sul viso che fu un bene che suo nonno non la vedesse. «E io ti chiedo di partire da solo. C'è qualcuno pronto a venire con te ovunque e con gioia?» Lori interruppe il suo concitato andirivieni. «Chi? Io? Oh nonno, mi sono comportato da maledetto egoista. Ma cerca di capire», mormorò Lori con voce rauca, tendendo la mano al vecchio signore. «Capisco e come, ragazzo mio. Ci sono passato anch'io da giovane. E poi con tuo padre. Ora, siedi tranquillo e sta a sentire il mio programma. È già tutto stabilito. Possiamo partire anche subito», disse il signor Lawrence, trattenendo Lori per un braccio, quasi temesse di vederlo fuggire come aveva fatto suo padre tanti anni prima. «Ti ascolto», disse Lori con un tono del tutto privo di interesse. «A Londra c'è in ballo un affare che va seguito da vicino. Avevo pensato di incaricare te, ma forse è meglio che venga anch'io. Le cose qui andranno benissimo sotto la guida di Brooke. I miei soci se la possono cavare da soli. Io non sono uscito dalla ditta solo per tenerti il posto, ma posso allontanarmi in qualunque momento. Ma a te viaggiare non piace, nonno, e alla tua età sarebbe un sacrificio troppo grande», ribattè Lori. Era grato di quella proposta, ma se proprio doveva partire, preferiva farlo da solo. Il signor Lawrence lo sapeva, ma sapeva anche che non era il caso di lasciarlo a se stesso, nello stato d'animo in cui si trovava e così, reprimendo il rimpianto per le comodità della sua casa che avrebbe dovuto abbandonare, disse con orgoglio. «Perbacco! Non sono poi un centenario! L'idea di questo viaggio mi piace molto, di sicuro mi farà bene. Le mie ossa non ne soffriranno, e oggi i viaggi sono così comodi, che sarà come stare seduto su questa sedia!» Un movimento improvviso della sedia di Lori gli fece però capire che non si trattava di comodità e che, probabilmente, lui non era entusiasta dell'idea. Così aggiunse subito. «Non sarò un peso, vedrai. Se ho deciso di venire è perché penso che anche tu sarai più tranquillo che non lasciandomi qui da solo. Godrai di tutta la libertà che vuoi. Io mi divertirò per conto mio. Ho degli amici non solo a Londra ma anche a Parigi e andrò a trovarli. Tu potrai andartene dove vorrai, in Italia, in Germania, in Svizzera, e goderti arte, musica, teatro e lanciarti in tutte le avventure che vorrai». In quel momento, per Lori, il mondo non era che un deserto, ma le parole introdotte dal vecchio signore nell'ultima parte del suo discorso, votate lì quasi per caso, gli avevano fatto balzare il cuore in petto. Nello squallido paesaggio che aveva davanti, aveva visto apparire d'un tratto un'oasi verdeggiante. Sospirò e poi, in tono indifferente, «Come vuoi, nonno, per me non ha importanza dove vado e cosa faccio». «Ma ne ha per me, figliuolo. Ti concedo la massima libertà, ma spero che ne farai l'uso migliore». «Promettimelo, Lori». «Tutto quello che vuoi, tanto non mi importa dove andrò e cosa farò». Il vecchio gentiluomo represse un sospiro di sollievo. In quel momento, a suo nipote, promettere non costava nulla, ma sarebbe venuto il giorno in cui quella promessa lo avrebbe tenuto fuori dai guai, o almeno lo sperava. Da uomo energico e volitivo qual era, il signor Lorenz batte il ferro finché era caldo, e prima che Lori avesse recuperato lucidità sufficiente per ribellarsi, i due erano già partiti. Nel breve periodo dedicato ai preparativi necessari, Lori si comportò come qualsiasi altro giovane nelle sue condizioni. A volte era triste, a volte irritabile, a volte pensoso. Aveva perso l'appetito, si trascurava nel vestire e passava molte ore al pianoforte, suonando impetuosamente. Evitava Joe, ma la spiava dalla finestra con un'espressione così tragica da turbarle il sonno durante la notte. A differenza di altri innamorati delusi, non parlava mai del suo dolore e non permetteva a nessuno, neanche alla signora Marsh, di consolarlo e di dimostrargli solidarietà. In un certo senso tanta riservatezza fu un sollievo per i suoi amici, ma nelle settimane che precedettero la partenza, tutti pensavano al momento in cui quel caro, povero ragazzo se ne sarebbe andato lontano per querire le sue pene e tornare poi felice più di prima. Lui sorrideva amaramente di quelle illusioni, fingendo di ignorarle con l'aria di triste superiorità di chi sa che la propria fedeltà, come il suo amore, non si può cambiare. Quando giunse il momento della partenza, ostentò una tranquillità e una sicurezza di sé che in realtà non provava per niente. Gli altri se ne accorsero, ma finsero di crederci. Superò bene la prova quando la signora Marsh lo abbracciò con tenerezza materna, ma cercò di stringere i tempi quando fu il momento di congedarsi dalle altre persone presenti, compresa la povera Hannah, e si precipitò giù per le scale come se da questo dipendesse la sua vita. Gio lo seguì, sperando che si voltasse per fargli un ultimo cenno di saluto con la mano. Lui si girò, infatti, l'abbracciò, la fissò implorante e lanciò un ultimo disperato appello. Proprio non vuoi? No, ma vorrei tanto poterlo fare. E fu tutto, a parte qualche attimo di silenzio. Poi Lori scrollò le spalle e disse «Va bene, non importa». E se ne andò, questa volta senza dire altro. Ma non andava bene per niente e Gio se ne rendeva conto. Pronunciando quell'ultimo rifiuto, si era sentita come chi pugnala alle spalle l'amico più caro. E quando vide Lori scomparire senza più voltarsi indietro, si disse che il ragazzo che c'era ancora dentro Lori se ne stava andando per sempre.